Siamo all'8 di marzo e stiamo iniziando le potature delle viti al terzo anno di età e per scelta perché stiamo cercando di spostare il più tardo possibile la potatura della vite e dove si può perlomeno quella degli impianti giovani per ritardare sia il germogliamento che la fase fenologica generale. Quindi in questo caso ci troviamo su viti che lo scorso anno sono state potate con lo sperone e noi dobbiamo continuare a favorire quello che è il flusso idraulico della pianta quindi dove abbiamo l'innesto, noi stiamo costruendo l'innesto della barbatella, stiamo costruendo dalla parte opposta e in questo modo dobbiamo sempre favorire quello che è la parte idraulica della vite quindi non andrò a scegliere il tralcio geometricamente più verticale ma vado a scegliere quello che è in posizione ottimale per il percorso della linfa che è questo qua, quindi vado ad eliminare con la tecnica di taglio del legno di rispetto, questo centrale e poi vado a rifinire la lunghezza del tralcio in funzione della vigoria e della posizione della pianta all'interno del vigneto. In questo modo la mia pianta è stata completata.